Numerosa, come sempre, la partecipazione dei testimoni di Geova all'Assemblea di Forchia in Campania, in tanti giovani che si avvicinano al movimento, al passo con i tempi, in fatto di informazione e comunicazione. Dopo gli oltre 80 raduni estivi, tenuti in 25 città italiane, i testimoni di Geova di tutto il Molise sono tornati a riunirsi a Forchia, nel Beneventano, nella struttura che da oltre un ventennio ospita le loro assemblee. Oltre 1600 è convenuti per il congresso intitolato La parola di Dio esercita potenza. I discorsi pronunciati hanno richiamato l'attenzione sul potere delle Sacre Scritture di toccare profondamente il cuore delle persone e di trasformare in meglio la loro vita. Un invito, quello rivolto dai testimoni, indirizzato a persone di ogni età, estrazione sociale e cultura. Nell'uditorio presenti moltissimi giovani, segno che la fede non è prerogativa solo degli adulti. Nell'avvicinare le nuove generazioni alla lettura e allo studio della Bibbia, i testimoni di Geova impiegano con successo le nuove tecnologie. Il loro sito web, jw.org, permette, in maniera del tutto gratuita, non solo di leggere o ascoltare la Bibbia, ma anche di scaricare libri e altro materiale in formato elettronico, adatto a bambini, ragazzi e adulti in oltre 500 lingue. Nel mese di gennaio il loro periodico mensile, Svegliatevi, che ha una tiratura per ogni numero che sfiora i 45 milioni di copie, farà conoscere su vasta scala le caratteristiche di questo sito web davvero unico.